Ciao a tutti, in questo breve video vi parlo di tre animali che ci fanno sicuramente un po' riflettere in chiave Empowerment e Soft Skills. Uno di questi animaletti molto simpatico, il primo, è il pesciolino rosso. Probabilmente non sapete che la soglia d'attenzione del pesciolino rosso è di circa 9 secondi. Questo significa che il pesciolino rosso può seguire uno stimolo a cui è interessato per 9 secondi, poi si distrae, fa altro. Ebbene, è stato scoperto che la soglia dell'attenzione nell'essere umano nel corso degli ultimi anni si è ridotta di molto. E ahimè, la notizia tragica, oserei dire, è che la nostra soglia dell'attenzione è più bassa di quella del pesciolino rosso, circa 7 secondi. Questo primo animaletto ci fa quindi riflettere, in una certa maniera, su quello che è un elemento fondamentale delle interazioni umani, nel processo comunicativo, nella vita di tutti i giorni. L'attenzione. Occorre essere attenti e fare attenzione, soprattutto quando si parla di rapporti interpersonali o di crescita personale, appunto di Empowerment. Un secondo animaletto, alquanto saporito, oserei dire, è l'aragosta. L'aragosta, per crescere e svilupparsi, fa sostanzialmente una vitaccia, perché edifica il suo guscio, poi esce fuori dal guscio per crescere. E affronta quindi le sfide dell'oceano, i predatori, poi nuovamente edifica il suo guscio, cresce nuovamente, esce dal guscio e affronta nuovamente le sfide. Bene, la vita di questo animale ci mette in evidenza di quanto sia effettivamente importante lo stress. Ebbene, noi cresciamo anche e soprattutto attraverso lo stress. Quindi non vediamo più lo stress come una malattia, come qualcosa di negativo, ma come una forma di adattamento che serve alla crescita e allo sviluppo. Il terzo animale che ci fa riflettere è la zebra. Bene, io faccio sempre riferimento a un libro molto interessante che si chiama Perché alle zebbre non viene l'ulcero. E che ci mostra un meccanismo fondamentale che noi dobbiamo imparare come esseri umani. Per il nostro cervello, purtroppo o per fortuna, non c'è differenza tra realtà ed immaginazione. E questo ve lo dico perché in realtà questo meccanismo, questo processo non avviene nella zebra. Ed è per questa ragione che la zebra si stressa solo quando il leone è reale, solo quando la minaccia è presente, e quindi attiva i suoi meccanismi di difesa, magari scappa dalla minaccia. In realtà, negli esseri umani, poiché appunto siamo dotati anche di immaginazione, il cervello non fa questa differenza tra realtà e immaginazione, la minaccia, il caro leone, lo possiamo visualizzare uno, dieci, cento, un miliardo di volte. Quindi noi quella minaccia, oltre a viverla, la possiamo rivivere con il pensiero, n volte, ci stresseremo, n volte. Questi tre animali, quindi, ci fanno molto riflettere su alcuni elementi chiave che riguardano appunto la nostra acquisizione di consapevolezza e di potere, fanno parte anche delle soft skill, così come la nostra personalità, l'esplorazione della personalità. Ebbene, la personalità deriva dal termine persona, e persona significa maschera. Tant'è vero che spesso si parla di struttura della personalità, di dimensioni della personalità, di tratti di personalità. Esistono diverse teorie sulla personalità, ma ritengo quella più suggestiva e affascinante, quella topografica di Freud, che fa riferimento a tre istanze fondamentali, il famoso S, l'io e il superio, l'ess e la parte istintiva, l'animale che c'è in noi. Il superio è il controllore interno, è un controllore che si forma, si edifica nel corso dell'educazione, è legato ai no e alle proibizioni che noi abbiamo ricevuto nel corso dell'evoluzione, della crescita. E poi di mezzo abbiamo l'io, che cerca un po' di mediare, e quindi fa proprio da mediatore, tra l'ess, l'istinto e la parte super egoica. C'è sempre quindi questa situazione di lotta, di conflitto. Tanto è vero che si dice che quando una persona è equilibrata, ha un io stabile. Ebbene, vi voglio raccontare questa metafora molto affascinante che fa Freud a proposito di queste tre istanze della personalità, che esistono sempre e comunque e simultaneamente. In ogni caso è come se dicesse fate attenzione, perché diciamo che il rapporto tra queste varie parti della personalità è un po' come il cavaliere e il cavallo. E il cavaliere è a dare la direzione, a dire al cavallo se correre, se andare al trotto, al galoppo, se andare a destra, a sinistra. Ma di tanto in tanto, che fa il cavallo? Si imbizzarrisce e va indipendentemente da dove vuole il cavaliere. Bene, questa è una metafora molto interessante in termini di personalità e di conoscenza, perché è anche un invito a conoscere anche le parti più oscure della nostra personalità. Bene, io vi ringrazio, vi saluto e a presto al prossimo appuntamento. Ciao, ciao!